Sono Marta di Nostrificio Etimond, azienda che opera nel settore tessile nella produzione di accessori per l'abbigliamento. Gestisco questa azienda da ben 34 anni con altre figure femminili. Ho iniziato a 22 anni proseguendo il cammino della mia famiglia e devo dire che non è stato un percorso facile ma sicuramente molto entusiasmante e appagante. Nonostante tutto mantengo la motivazione che avevo fin dall'inizio della mia attività verso il settore moda che è sempre stato comunque un settore di mio interesse. Il consiglio che posso dare alle donne e il messaggio che vorrei trasmettere è che è importante credere nelle proprie idee, nei propri progetti e soprattutto credere sempre in se stesse e rispettando la propria unicità. Un auguri a tutte e viva le donne!